Oggi siamo a... Noto! La cattedrale di San Nicolò di Mira Guardate, è spettacolare, bellissima, con la scarinata, la facciata Le sacre spolli del santo patrono San Corrado con Falonieri sono conservate nell'arca d'argento cinquecentesca Guardate qui le fionde e la pistola a spara elastico, questa è vecchissima Qui ci sono le calamite con le teste di moro E qui a Noto assaggiamo la brioche congelato, la cassatina Assaggio cassatina È buona, mi piace, adesso la faccio assaggiare in cassino Com'è, mi piace Assaggio brioche congelato Com'è? Buonissimo Che guardi Daniela, le classiche cartoline, chissà se qualcuno le spedisce ancora Penso proprio di sì Però sono bellissime, sono vintage Stiamo visitando insieme a voi Noto in Sicilia E granita siciliana con pistacchio e fragolino E gelso e mandarino Con la brioche col tuppo E buonisufrui Come la fanno in Sicilia, non la fanno da nessuna parte Fantastica la scalinata Ecco un'altra scalinata La fontana d'Ercole e la chiesa di San Domenico Il teatro comunale Tina di Lorenzo Bellissimo Daniela in postazione per vedere qualche opera teatrale Ci sono tantissimi ristoranti, localini per mangiare Guardate che belli tavolini colorati Eccoci anche l'attraversamento del trenino Con piazza del municipio Il Palazzo Ducezio Visitiamo la Sala degli Specchi nel Palazzo Ducezio Eccoci qua, ci siamo noi con l'effetto degli specchi Matrimonio in diretta La loggia del mercato Qui un tempo facevano il mercato di noto Via Nicolaci Questa strada è importante perché a maggio c'è la famosa infiorata di noto Il Palazzo Nicolaci di Villa Dorata Stiamo scoprendo insieme il barocco siciliano nel centro storico Che è dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO Ma guardate che scorci caratteristici qui a noto La chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata Ah, guardate è bellissima con la scalinata La chiesa di Santa Chiara Secondo quanto mai visto l'antico più c'è La Basilica del Santissimo Salvatore Il Palazzo Landolina La Porta Ferdinandea o Porta Reale Costruita per omaggiare la visita del re Ferdinando II di Borbone Il Gatto di Noto Nella Villa Comunale E allora il cane Enfila la figlia d'India, giri e rimane da dentro Fantastico Si metta il gessichiello, il contenatore e poi con queste calevi tutte le spine Quindi questo si chiama il coppo per raccogliere i figli d'India Il coppo per raccogliere i figli d'India e la grattugia per l'ovare le spine Fantastico Ciao Noto, da dove al sud? Ciao da Daniele e Daniela Ciao Ciao